Perché lui aveva un curatore, era un soldato più vecchio, più anziano, era come padre per lui, e lui li trattava come padre, perché siccome lui era trovato come si dice questo piccolo bambino, dopo la nascita, lui proprio non conosceva gli animali, e conosceva soltanto gli uomini, e io dico siccome ognuno è sensibile all'ambiente, anzitutto gli animali, e lui ha appreso un'anima umana, proprio aveva un carattere umano, non era niente da lui di animale, che feroce l'animale, perché l'orso non è mica un animale, è meglio non l'incontrare lui. Che nome aveva l'orso? Come si chiamava? Wojtek, e che cosa? Perché mi tormentano? Perché anch'io sono Wojtek, non sono Wojtek ad Alberto, San Ad Alberto in italiano, ma come abbreviato e come si usa è Wojtek, così che il nostro comandante della nostra compagna di rifornimento di artilleria, noi portavamo munizioni, cibo e tutto, materiale militare per i reggimenti di artilleria, piuttosto questa più pesante. E l'orso vi seguiva ovunque? Veniva con lui? Lui, siccome animali, animali, anzitutto che hanno una buona influenza all'ambiente, e il nostro comandante ci rendeva conto che questo animale sarà per noi, siccome noi lontano dalla patria, lontano dalle famiglie, cercavamo di avere qualche cosa vicino e questo era così simpatico, animale, che veramente aveva... migliorava morale del soldato, possiamo dire. Certo. Sì, veramente. Era... Era un soldato come voi, di fatto. Sì, sì. Ah, perché lui aveva la licenza del soldato. Ma come mai questo è successo? Quando dall'Egitto, da Port Said, andavamo in Italia, l'animale non poteva andare sulla nave. Sulla nave? Sì, non era vietato portare. E perciò lui ha ricevuto ufficialmente una britannica paybook che noi avevamo, soltanto che lui non ricevava i soldi. Ma era un soldato non pagato, volontario. Ma riceveva il cibo. Il cibo. Anche doppio. E beh, un doppio mangia parecchio. Perché lui aveva bisogno di mangiare più di noi. E beh, un doppio mangia parecchio.